Abbiamo guardato al bilancio che quest'anno è chiaramente particolarmente precario perché non sappiamo, abbiamo dei mancati introiti anche importanti da quelle che sono le tasse comunali e avendo rispetto assoluto dei soldi dei cittadini abbiamo cercato di ottimizzare la spesa anche su questo tipo di eventi. Cioè nonostante gli assessori sono stati in grado di organizzare un manifesto estivo degno della nostra estate san salvese per cui il nostro vuole essere questa conferenza stampa e soprattutto una occasione per augurare buona estate ai san salvesi è un benvenuto a coloro che decideranno anche quest'anno forse per la prima volta quest'anno di trascorrere il loro periodo di ferie nella nostra città. Un calendario di 18 eventi tutti dedicati al centro storico di San Salvo all'interno del quale avremo eventi musicali, eventi letterari, eventi per bambini e una novità quest'anno è l'introduzione della rassegna di cinema all'aperto. Abbiamo pensato anche a bambini, gli eventi per loro saranno nell'anfiteatro della villa comunale Piazzetta Donatori di Sangue, due appuntamenti dedicati a loro in collaborazione con l'Avis di San Salvo. Qui in piazza San Vitale ci saranno le tre serate dedicate al premio letterario Raffaele Artese città di San Salvo e all'interno del quale ci sarà anche la presentazione del libro di Nicola Mastronardi e di Vittorio Sabelli, Sanniti e la tavola Oscar e sarà l'augurio per la serata finale del premio. Avremo la presentazione del libro del professore Giovanni Artese, la continuazione, l'aggiornamento del suo libro La storia di San Salvo, una serata di musica dedicata alla nostra artista Lara Molino e avremo un omaggio a Ennio Morricone con un'orchestra di gran livello culturale e avremo una serata di grande cultura l'Ulisse di Giacomo Moscato nella serata dell'8 di agosto. Concluderemo in bellezza il nostro calendario eventi come al solito con l'omaggio dedicato alla musica lirica.